300.000 pasti per ogni anno scolastico che dura 150 giorni per un triennio. Mentre a Palazzo di Città si attende che arrivi a scadenza il termine ultimo per la presentazione delle offerte dopo la pubblicazione del Bando Europeo per il Servizio di Ristorazione Scolastica, che parte da una base di 4.968.000 euro, sono state riaperte le domande per l'iscrizione alla mensa. Le istanze dovranno essere presentate dal 15 luglio e sino al 4 agosto per tutti gli alunni che frequentano le scuole di infanzia e le primarie a tempo pieno. L'iscrizione a scuola non comporta automaticamente quella alla mensa, precisano dagli uffici del Comune, ed è obbligatoria sia in caso di riconfirma che di nuova iscrizione. Quanto ai ticket posti a carico delle famiglie, il costo resta invariato rispetto allo scorso anno e sarà parametrato in base alle fasce di reddito ISEE. La precisazione si è resa necessaria perché la Giunta ha approvato l'aumento del prezzo a base d'asta per il singolo passo da 4,27 euro a 5,74 euro IVA compresa, tenuto conto dell'aumento del costo della vita secondo gli indici ISTAT da quelli di produzione sino ad arrivare a quelli per il trasporto. Quanto ai pasti da fornire all'asilo nido comunale e a gestione diretta in via Torretta, quartiere Paradiso, l'utenza stimata è di 60 bambini per 190 giorni l'anno per un totale di 11.400 pasti ed un costo annuo che ammonta circa 63.000 euro. Il bando, finanziato con fondi del comune di Brindisi, è stato pubblicato dopo la proroga alla società Serenissima Ristorazione che ha assicurato il servizio di mensa dal 2018 con la produzione di pasti nel centro cottura di proprietà del comune.